Cari amici sportivi, desidero esprimere il mio parere sulla partita Dinamo Zagabria-Juve vinta dai bianconeri per 4-0, una partita straordinata dalla Juve anche perché la Dinamo Zagabria non è che abbia fatto granché per vincere. Si è visto subito dopo i primi minuti, sembrava che fossero chissà che cosa, ma poi la Juve è venuta fuori prepotentemente e si è sfogato Iguain, Pjanic e quindi è venuta fuori una specie di goleada perché praticamente non c'è stata partita in tutto i 90 minuti. La Dinamo Zagabria è chiaramente limitata come squadra, quando c'era piazza invece era qualcosa di più forte, qualcosa di più consistente per batterla, invece si è dimostrata proprio una squadretta. Però la Juve è stata molto brava, devo essere sincero, per giocare in Europa così bisogna essere veramente bravi e bisogna dire quello che è. Il limite tecnico della Dinamo Zagabria comunque non si discute perché certi gol potevano evitare, bianco il primo per esempio, però non c'è stata partita. E comunque è bene così, così almeno si stufano un po' e magari in campionato qualche inseguo lo fanno. E per il resto ho visto un grande calcio, cosa che purtroppo noi milanisti dovremmo aspettare un po' di anni per vedere il nostro Milan Champions. Purtroppo è un cassettone, purtroppo va così, vedremo, però è stata veramente una bella partita che è. Un abbraccio e al prossimo video, ciao ciao. Grazie. Grazie.